Sono ancora vivo, e come ogni anno, prima del rientro, faccio un video spiegando quello che succederà in questa stagione. Stagione cos'è? 2022-2023. Molto bene. Ma per rispondere subito alla prima domanda, Breaking Italy ricomincia il 5 settembre, lunedì prossimo. Ho l'ansia? Ho l'ansia. E anche un nuovo tavolo, apparentemente. Non voglio farvi perdere tempo, ma ci tengo a dirvi tutto quello che succederà nei prossimi mesi, quindi sarò iper sintetico ed escluderò alcune cose delle quali per ora non posso parlarvi, ma c'è comunque ancora tanta roba in arrivo. Iniziamo con il podcast, quello con la P maiuscola. Il podcast, quello in presenza, al quale devo probabilmente trovare un nuovo nome più appropriato a questo punto, è confermato per una nuova stagione, quindi ci rivediamo in teatro già dal tardo settembre, precisamente dal 29 settembre. L'ospitello annuncio a breve, anche se lo immaginerete, e due cose. Uno, a schermo in questo momento tutte le date del podcast di quest'anno, che vi rendono disponibili anche in descrizione, e poi ne parliamo su un sito. Quindi mettetevi comodi, prendetevi tutto il tempo che volete, mettete in pausa e registratevi le date. E due, sarà in un altro teatro, sempre a Milano, ma al teatro Carcano. Due parole su questo. Cominciamo con il dire che il teatro Carcano è grande il doppio del precedente, perché io sono una persona molto malata, circondata da altre persone che mi aiutano a coltivare questo forte disagio. È un teatro molto bello, che si trova in corso di Porta Romana, in centro, attaccato all'uscita crocetta della metro, cosa che lo rende estremamente comodo. Quindi, non vedo l'ora di vedervi lì. È tutto qua. Probabilmente sarà di nuovo come prima, quindi ci sarà un setup che vi permetterà, se vorrete, di incontrarmi prima e dopo lo spettacolo, scambiare alcune chiacchiere. È una cosa che mi è piaciuta molto nella scorsa stagione. Numero due, le live. Perché il venerdì ricominciano le live, e nel corso delle settimane ho intenzione di ristrutturarle. Quindi, non da subito, non dal prossimo venerdì, ma aspettatevi dei cambiamenti nei mesi a venire, che prevederanno l'invito di ospiti, interviste, focus su argomenti specifici. Ne faccio proprio un prodotto un po' strutturato. Non vi preoccupate comunque, rimarranno anche un momento di cazzeggio tra me e voi, a quello non rinuncerei, e plausibilmente quindi diventeranno un pochino più lunghe, ma non troppo più lunghe. E tornano su YouTube, questo è importante. Grazie Twitch per l'ospitalità, molto apprezzata, però, torno al mio primo amore. Numero 3, gli shorts. Vi avviso che potreste iniziare a vedere qui su YouTube, come anche negli altri social, che però sono tutto un argomento a parte, di cui non parliamo oggi, degli spezzoni in formato shorts, tratti per ora da vecchie puntate di podcast, interviste, cose le quali vorrei dare importanza. Quindi, insomma, non vi preoccupate se li vedete apparire sul canale di Breaking Italy. Stiamo sperimentando. Numero 4, gli abbonamenti. Allora, qui dobbiamo un attimo prenderci un po' di tempo. Seguitemi perché vi piacerà quello che sto per dirvi. Tra un pochino vi racconto di una cosa nuova che vedrete a breve. Ve la descrivo nel dettaglio. Tra qualche mese, diciamo fine anno, inizio anno prossimo, inizia una seconda fase di un lungo progetto che ho in mente da anni e che grazie agli iscritti e agli abbonati del Breaking Italy Club posso portare avanti. Concretamente, questo significherà che a un certo punto, di nuovo, mi serve ancora qualche mese, arriveranno un sito web e un'app, un'app per smartphone, no? Perché lo devo mostrare, sono un boomer, quindi questo è uno smartphone, cari amini. Questo? Pronto? Cosa c'è in quest'app, quindi? Quest'app permetterà di accedere sia ai contenuti gratuiti come Breaking Italy, che comunque rimane su YouTube, non preoccupatevi, sia ai contenuti a pagamento, che saranno sempre di più e che oggi vengono convogliati su Patreon. E idealmente permetterà quindi di iscriversi direttamente da lì. Oppure, se preferite, di rimanere su Patreon e fare l'accesso tramite quello. Di nuovo, infatti, tutto quello che facciamo e che faremo, da Breaking Italy alle altre cose, viene finanziato da quelli di voi che hanno deciso di abbonarsi, perché ovviamente fare cose non richiede soltanto visione, l'abbiamo sempre detto, quella posso mettercela anche gratis, ma richiede persone, competenze e strumenti. Tutto quello che sta accadendo, quindi, ogni singola cosa nuova che faremo, la facciamo perché ci sono gli abbonati. Quindi grazie. Insomma, per farla breve, quest'anno facciamo il passo successivo, ma non ve ne voglio ancora parlare nel dettaglio, se no sto video dura un'eternità. Sappiate che ci sarà un'app, che vogliamo metterci dei contenuti, degli approfondimenti e delle cose interessanti. E questo mi porta all'ultimo punto per oggi. Il podcast della Rassegna Stampa. Attualmente, una delle cose che producevamo per il club erano dei Q&A divertenti con la redazione. Quelli sono finiti, abbiamo smontato tutto e abbiamo preparato una nuova cosa che vi porterà con noi in redazione. La mattina, infatti, prima di metterci ad approfondire gli argomenti della puntata, normalmente ci confrontiamo su tutto quello che sta accadendo nel mondo, così da avere una visione complessiva. E abbiamo deciso di farne un podcast che tra qualche tempo inizieremo a caricare, prima gratuitamente su tutte le piattaforme e poi lo renderemo disponibile dopo qualche mese solo per gli abbonati. Ed è, insomma, uno dei primi prodotti nuovi che lanceremo una volta che avremo un luogo nel quale convogliare tutto quanto. Abbiamo iniziato a costruire questo podcast. È molto carino. Stiamo facendo le prove in questi giorni. È divertente. Per il resto, per chi è già abbonato o per chi sta per abbonarsi al club, breakingitaly.club, se ci steste facendo un pensierino, arriveranno anche altre cosine nuove in attesa di questo grosso cambiamento. Che però, di nuovo, da parte vostra non necessita di alcuno sforzo. Semplicemente avrete a un certo punto più cose. E ci sarà anche un luogo nel quale poterle vedere e sentire. Detto questo, ci sono un'altra serie di cose le quali sto lavorando in segreto, ma per ora non vi dico nulla. Quindi, l'ultima cosa che ho da dirvi è che ci vediamo lunedì. Preparatevi. Weekend. Vi rilassate un attimino. E poi torniamo.